Bella ragazzi qua a Ghiotta, allora buon lunedì, buon inizio settimana, è la settimana che ci porterà domani a vivere questa grande partita a Cogna in uno stadio pieno perché in Turchia sembra che la partita è molto sentita per comunque battere l'Italia che è ancora campione d'Europa anche se ormai ce lo siamo già scordati perché abbiamo alti problemi e sempre sarebbe un'impresa per loro, un evento comunque importante quindi c'è grande attesa, da parte nostra un po' meno, francamente io vabbè domani lavoro, lavorerò di notte quindi vedrò solo il primo tempo quindi non aspettatevi il video che io ve lo dico già in anticipo, ma soprattutto questi sono i giorni che ci porteranno poi alla ripresa del campionato 31esima giornata, la Lazio sarà di scena sabato all'ora 18 quindi nell'anticipo allo stadio olimpico di Roma col Sassuolo io ho qua le probabili formazioni e poi voglio fare una riflessione andando a leggere queste formazioni un po' su quello che è stato il calciomercato di gennaio questo non calciomercato che praticamente non ha inciso assolutamente sul proseguo della stagione della Lazio, sulla gestione della Rosa da parte di Sarri perché praticamente giocano sempre gli stessi e quei due giocatori che sono arrivati a gennaio praticamente si può dire che sono due oggetti misteriosi per diversi motivi, sono due casi completamente diversi allora andando a leggere le formazioni e premettendo che sabato è una partita difficilissima sappiamo che storicamente noi col Sassuolo fatichiamo molto, soprattutto quando giochiamo a Roma contro la squadra nero-verde e i dati di questo campionato ci dicono che il Sassuolo ha sbancato l'Allianz Stadium, ha sbancato San Siro sia quello interista sia quello milanista, poi ha pareggiato comunque con la Roma cioè una squadra ragazzi molto temibile che con le grandi dà il meglio di sé e attenzione perché comunque noi Immobile rientrerà, cioè già rientrato praticamente dalla Nazionale Luis Felipe anche, invece per esempio Scamacca, Raspadori dovrebbero giocare domani sera quindi c'è anche questo piccolo dato in più allora la Lazio dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con Stracoscia in porta, con Lazzari che è ancora in ballottaggio ma deve giocare Lazzari, non voglio sentire ragioni e devo dire che mi sembra anche in forma fisicamente dato che nel derby nel secondo tempo è stato uno dei migliori poi Luis Felipe appunto a Cerbi in difesa, anche lui è ancora con la Nazionale Marosic a sinistra, Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo c'è un po' di ballottaggio a centrocampo ovviamente tra Luis Alberto, scusatemi, tra Leiva e Cataldi anche Luis Alberto non è sicuro di partire dal primo minuto ma io direi che partirà dall'inizio e in attacco ormai il tridente ha fermato Anderson, Immobile e Zaccani con Pedro che è squalificato poi Pedro negli ultimi mesi è un po' sceso nelle gerarchie però se Felipe Anderson continua a giocare così in modo discontinuo e in modo poco concreto, poco incisivo io valuterei poi di far giocare assolutamente Pedro titolare in panchina Reina Damonis, Patrick Isai, Radu, Romero che è stato convocato all'Argentina e ripeto bisogna dargli più spazio Andre Anderson, Alcopapro, Basic, Cataldi, Giovane Cabral e Moro il Sassuoli invece 4-2-3-1 consigli in porta, Muldo, Ryan, Ferrari, Chira Copulos che dicono sia anche in Notti Calazio per il prossimo anno secondo me un buon terzino Fratesi, Maxime Lopez in mediana Berardi che reduce da una prestazione così così con la Macedonia un gol mangiato Raspadori, Traorì, dietro a Bomber, Scamacca allora, cosa notate da questa formazione che vi ho appena detto? che non vengono per niente prese in considerazione il buon Kamenovic e soprattutto Giovane Cabral allora, per quanto riguarda il primo mai utilizzato posso dire, oso dire, mai considerato veramente da Maurizio Sarri perché è stata un'operazione di tare Kezman, l'agente del giocatore, arrivato ormai un anno e mezzo fa, un anno fa dal Cucaricci, squadra serba tra l'altro Kamenovic è andato anche in nazionale serba magari anche per staccare un po' la spina per gli fa bene al ragazzo è lo stesso agente di Minicovi Savic quindi un'operazione, diciamo, non so se per tenersi buono la gente comunque un'operazione, diciamo, di tare ma non è un'operazione tecnica di campo perché Sarri non conosce il giocatore non gli piace l'ha provato nel senso, l'ha provato quest'estate anche da Auronzo ma è un giocatore che evidentemente ritiene inadatto all'esigenza che ha la Lazio Giovane Cabral invece, anche lì è un giocatore che Sarri non ha voluto che non conosce che è stato preso così perché noi improvvisiamo noi non programmiamo ieri ha segnato ancora Crespi in primavera fermo restando che il nostro storio giovanile è imbarazzante dobbiamo lavorarci su però per dire, io Crespi lo prenderei in considerazione dato che dietro ai mobile non c'è nessuno perché questo Cabral non è una prima punta io vi ho detto subito che non avrebbe mai giocato perché Sarri non l'ha voluto e ripeto, non lo conosce lui è reduce da un infortunio anche lui è andato in nazionale e sicuramente al giocatore li fa bene ha giocato 72 minuti con l'Udinese e aveva giocato anche bene tra l'altro era entrato al posto di Pedro però, evadisco, è un giocatorino normalissimo mediocre è ovvio che adesso capita che magari il mobile non le può giocare tutte magari gli fai fare 10 minuti alla fine servirebbe coinvolgere di più Cabral però forse Sarri probabilmente vuole dare un segnale dire, mi avete preso due giocatori che io non voglio che non conoscevo, che non ho visionato e sembra che appunto Tar ha ragione in un modo, lavori in un modo e Sarri viaggi su una retta parallela che non si contrarà mai con le idee di Tarre quindi arriviamo al fatto che quest'estate ovviamente non verrà riscattato Cabral c'è un prestito con diritto dicono forse un obbligo ma non è quella la ragione per cui non gioca Cabral ok, sia ben chiaro è questo però quest'estate ci saranno delle riflessioni anche su Tarre perché è inutile continuare con Sarri che è un allenatore che purtroppo per fortuna ha bisogno dei giocatori adatti al suo gioco che piacciono a lui per poi vedere dei grandi risultati dei risultati migliori di quelli che stiamo acquisendo quest'anno però se Tarre continua, ripeto, a fare un lavoro ripeto, che non è conforme a quello che chiede Sarri è inutile, bisognerà riflettere ieri ho parlato di Foggia che dicono potrebbe sostituire Tarre però Foggia non so se è all'altezza vedremo io penso che Tarre rimarrà comunque nella Lazio però bisognerà trovare un punto di incontro poi un altro giocatore che è un oggetto misterioso è Tom Abasic lui non è andato in nazionale è rimasto con Sarri speriamo gli sia servito 29 presenze quindi un po' ha giocato però sono tutte presenze diciamo che risalgono diciamo da ottobre a dicembre ok? nelle ultime nove di Serie A ha giocato solo 47 minuti e con un Luiz Alberto che io lo voglio sempre titolare però vacilla quest'anno un rendimento alto allenante e beh servirebbe ogni tanto inserire un giocatore che ti possa dare qualcosa in più dal punto di vista fisico inserimenti senza palla perché poi la Lazio spesso si ritrova a crossare in mezzo ma solo con Immobile o magari a volte Milinko in aria quindi servirebbe anche un giocatore così in alcune partite però devo dire che è un acquisto assolutamente deludente nonostante io penso che Basic non sia scarso però bisogna dire che è deludente poi torna beh questa è una notizia di cronaca che ovviamente interessa a noi e speriamo sia non dico tutto esaurito però ci sia una bella cornice di pubblica a Lazio Sassuolo perché torna la capienza al 100% negli stadi meno male direi che ormai ecco dovremmo superare questa questo ostacolo del virus dobbiamo imparare a conviverci direi che ormai l'abbiamo fatto quindi rispettando tutte le norme vigenti è giusto che gli stadi riaprono al 100% come anche negli altri paesi e poi chiudo questo video ragazzi parlando di Alessio Romagnoli io ve l'ho detto ve l'ho ripetuto in live anche ieri per me non verrà nonostante sia laziale nonostante al Milan non gli è più garantito il posto da titolare assolutamente anche se gioca perché ricordiamo che ormai si giocano i tre giorni ci sono infortuni squalifichi quindi spazio lo trovi è un giocatore comunque affidabile ancora giovane forse per la sua carriera sarebbe meglio venisse magari in una squadra da noi a parte che lui ti fa Lazio dove puoi essere protagonista dove puoi giocare titolare però il Milan comunque è intenzionato a rinnovare perché è consapevole che perdere un giocatore come Romagnoli per quanto non sia formidabile Calulu vediamo che è più forte i Romagnoli per non parlare di Tomori però c'è Kier che tornerà dell'infortunio ma ha un'età Kier certo se prendono botte ma il Romagnoli è chiuso però attenzione perché il Milan dovrebbe aver offerto 3 milioni quindi un ingaggio al ribasso rispetto a quello che percepisce adesso la Lazio deve almeno pareggiare l'offerta o secondo me anche magari un 3 milioni e 2 si parlava perché voi mettetevi nei panni di Romagnoli ok che ti fa Lazio però lui dice sto nel Milan che magari lotto per lo scudetto gioco la Champions Milano che è una bella città mi trovo bene eccetera la vedo difficile che Romagnoli decida di venire alla Lazio quindi la società deve fare uno sforzo c'è l'occasione di prendere un giocatore laziale quindi avrebbe grande cuore grande anche voglia secondo me di giocare nella Lazio e soprattutto ci metterebbe la grinta a differenza dei nostri giocatori nel derby perché lui le sentirebbe quelle partite lì e lo prenderessi a zero praticamente c'è da tartare con Raiola dovrebbe essere previsto un incontro nei prossimi giorni e io comunque sarei deluso perché la difesa nostra si sta sfaldando Luis Felipe va via a Cerbi ormai si è stata la rottura con i tifosi Patrica in scadenza Cameno Cerato chi cazzo abbiamo quindi bisogna prendere un difensore vero poi magari anche un giovane eccetera ma un difensore di assoluto affidamento nel pieno della maturazione e l'identikit corrisponde perfettamente ad Alessio Romagnoli però ripeto seri dubbi che possa venire ragazzi fatemi sapere la vostra sulla situazione Romagnoli e non solo poi faremo ancora dei video su Lazio Sassuolo dato che c'è ancora un pochino di tempo e niente like al video iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram Sei Calcio il sito con cui collaboro c'è una nuova offerta quindi passateci magliette tutte pantalocini da calcio di tutte le squadre signori vi saluto vi ringrazio e sempre a forza Lazio